Ciao Svideo! Oggi cosa faremo? 5 cose che non sai sul canale Gamertag! Siete sempre tratto da il grande libro delle bufale perché sono degli animali che ci piacciono molto, che fanno una mozzarella molto buona! Allora, comunque, un solitone grossissimo ai miei amici Gamertag, Lucio e Checco, che poi se non li conoscete troverete il link in descrizione da qualche parte, su, giù, bu, a destra, non lo so! Andiamo con la 1! Non tutti sanno che prima di aprire il canale Checco e Lucio, per conoscere le sorti del loro canale, sono andati da un indovino a cui si rivolgono in tanti che si fa chiamare Lupo Salamino. Lui praticamente taglia una fetta di salame e da quello che vede pronostica il futuro del canale. Purtroppo, quel giorno, l'indovino, come succede spesso in alcuni film, o nei libri, o in alcune tragedie teatrali, non gli diede una risposta molto chiara. Infatti, Checco gli chiedeva, allora, cosa riesci a vedere? E lui rispondeva, cari postulanti, il vostro risponso non è chiaro e cristallino. E Lucio chiese, perché? Vedi degli ostacoli, vedi dei problemi? E l'indovino rispose, no, è solo che ho tagliato la fetta troppo spessa. Bene, direi di andare a quella numero 2! All'inizio il canale Gamertag, che ora si occupa di gameplay, di live e di piccole miniserie, doveva essere tutt'altro. Doveva occuparsi di tutorial del tipo, come si trova la combinazione di un lucchetto in 5 mosse, come si curano le piante in un ambiente domestico, di come si costruiscono sedie robuste, di come si addomestica un orso polare in salotto, e di quante vitamine contiene la frutta, ad esempio le banane, oppure i lamponi. Salutiamo Gianni Morandi! Poi dopo i due videro un video di RoboJoker e da lì vogliono cambiare idea. Che video videro? Eh non c'è scritto, non c'è scritto, non c'è scritto, quindi non c'è scritto tutto, non c'è scritto tutto, mi dispiace. Andiamo con la numero 3! Ma come mai il canale Gamertag si chiama Gamertag? Tu lo sai? No, non lo sa neanche lui. Ma qua c'è scritto, eh? Carta canta, eh! Carta, carta, carta! Avete presente la favola della principessa e il radocchio? Bene, non c'entra niente con quello che vi devo dire. Allora, praticamente, Lucio un giorno inseguiva una rana, ma non sapeva di essere in un sogno. Correva, correva e correva, ma non riusciva mai a raggiungerla. Ad un tratto si svegliò, ma lui sentiva ancora graccidare. Andò in bagno, andò in cucina, andò in garage, andò in cantina, ma non riuscì a trovare la rana. Ma ad un certo punto arriva il suo cane con in bocca la rana. Ma la rana era ancora viva e non si era fatta niente. Quindi Lucio, gentilmente con la sua mano, prende la rana, corre verso il giardino e la lancia gridando, VOLA LIBERA VOLA RANA! In quel momento Checco gli telefona e gli chiede, Ti va bene Lucio se il canale lo chiamiamo GAMERTECH? E lui risponde SÌ! Ed è per questo che il canale si chiama GAMERTECH! Oh, comunque la rana si salva perché cade sul pratino soffice. E ora andiamo con la numero 4! Si sa che i youtuber tante volte devono parlare molto nei video, e poi per esempio Lucio deve anche cantare ogni tanto, e quindi occorre che la loro voce venga curata. E leggo qua che è per questo motivo se i due fanno un infuso di una diversa varietà di fiori, inoltre Checco pratica l'arte orientale dell'anime gym, che è una sorta di ginnastica e di posizioni da ricreare in base all'anime che si guarda in quel momento. Di solito guardando quelli dove c'è molta componente action, in modo da rifare le stesse mosse, si possono far lavorare bene tutti i muscoli del corpo. E... ok. Non so che cavolo c'entri questo con la voce. Andiamo con la 5 che è meglio! La parola Gamertech è composta da 9 lettere. Il 9 è il numero della generazione, della reincarnazione, e quindi in un certo senso... Gamertech può simboleggiare la rinascita della creatività. Bene ragazzi, il video si conclude qui, e io ringrazio e faccio un salutone grossissimo ai miei amici Checco Lussio del canale Gamertech. Spero che voi guarderete il canale al di là delle cavolate che vi ho detto oggi. E poi basta, direi di chiudere qua. Ciao!